Isabel! Non sapevo che arrivavi! Dov'è la bocca della menzogna? La mamma! È nei campi con Vitalino! Vuoi salutarla? No! Grazie! Sei tornato per fermarti? Per fermarmi non lo so. Per migliorare o precipitare. Perché? C'è del lavoro da fare nei campi. C'è il lavoro da fare qui. Dunque non te la cavavi bene a Parigi? Sì, ma Madame Verlaine ha cominciato a creare problemi. Che genere di problemi? Minacce di divorzio, dice che noi stavamo troppo tempo insieme. Donna Ricca è viziata, immagino. Hai ragione. Il lavoro che fai è di quelli che alla fine danno dei risultati. Non lo so. Comunque sì, è l'unico lavoro che so fare. Ho ho ho! Ho ho ho! Ho ho ito! Oh, oh.